Ehi, buongiorno, siamo tornati dopo una pausa, perché sai, è bello esserci, è bello raccontare. Oggi mancano 29 giorni a 10 anni a zero titoli, ok? È un tempo immenso, 10 anni a zero titoli e i giornali scrivono che nelle statistiche dei 200 Gran Premi, Valentino fa meglio di Maverick Vignales. Questi ragazzi sono marchette indegne, sono marchette per dire lui è meglio, ma che cosa nascondono i marchettari? Perché Marquez ha 26 anni e Valentino, quando aveva 200 Gran Premi, ne aveva 29, c'è un lasso di tempo di 3 anni. E in 3 anni quante ne vince Marquez? Ok? Allora, quello che voglio dirvi, amici miei, attenzione, perché la narrazione in questo momento di grande crisi, perché sai, se ha preso 12 secondi a Misano, se ha preso 23 secondi ad Aragon, insomma, voglio dire, il divario cresce, ok? E nessuno dice che questo qua, siccome ha 40 anni e non ha più gli aiutini di un tempo, e questo qua ha il polso un po' anchilosato, ok? Allora, Valentino, per favore, non distruggere il tuo mito. Per me è un mito, sai, avevi moto che facevano 20 km più all'ora degli altri, avevi gomme che nessuno aveva, insomma, l'hanno costruito un po' il mito, però a te c'è stato bravo, eh? Ti hai fatto la tua parte, hai preso per il culo il giusto, i tuoi, eh? Ti hai fatto la tua parte e hai arricchito tanta gente, bravo, ok? Però adesso, non distruggere quello che hai costruito, poi fai come ti pare. Noi sappiamo che te l'hai capito, ma c'è tutto il meccanismo che ti costringe ad andare avanti. In bocca al lupo, vale!